Le opportunità che abbiamo con l'aumento della vita media determinano però anche un aumento delle possibilità di disabilità. Questo fa sì che purtroppo non tutti noi arriveremo ad essere completamente autosufficienti in un periodo in cui invece ci piacerebbe goderci la vita. Questa non autosufficienza può determinare dei gravi problemi all'interno della famiglia, famiglie che purtroppo non sono più così numerose come erano una volta e quindi la difficoltà di gestire il disabile diventa anche un problema sia di stress, sia psicologico che anche economico. I numeri sono molto elevati e su questo le compagnie di assicurazioni oramai hanno costruito dei prodotti che danno la possibilità di avere una rendita vitalizia nel momento in cui una persona dovesse essere disabile. Su questo Generali sta lavorando molto. È proprio lunga vita a Lontencare. È un prodotto che permette all'assicurato di versare per un periodo limitato, quando è in una situazione economica florida, per un periodo limitato un premio annuo per 10, 5, 10, 15 anni, 25 anni. E in questo periodo accantono una cifra che gli verrà poi restituita sotto forma di rendita vitalizia nel caso in cui dovesse avere una situazione di disabilità valutata a punteggio. Quindi 40 su 60, quindi vuol dire non avere la totale disabilità ma quanto basta per non poter attendere al 100% le proprie funzioni.